In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae Ora Pronobis. Carissimi fedeli ben ritrovati per questo commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima era Domenica della Santissima Trinità e il Vangelo che si legge è quello di Matteo al capitolo ventottesimo dal versetto 18 al versetto 20. Sono appena tre versetti e sono gli ultimi del Vangelo di Matteo. Gesù avvicinato si disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono le parole che Gesù ha pronunciato appena prima di salire al cielo, prima dell'ascensione. E Gesù dice questo Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque. Cioè, la Chiesa, voi dovrete contare sui poteri che io ho ricevuto dal Padre e che a mia volta vi trasmetto. Trasmetto a voi, apostoli, e ai vostri successori. E soprattutto lo Spirito Santo ha la possibilità di celebrare i sacramenti per dare lo Spirito Santo ai fedeli. Quindi la celebrazione della Santissima Eucaristia, il Battesimo, gli altri sacramenti. E soprattutto di portare avanti una predicazione efficace per convertire, dice qui, tutte le nazioni. Cioè, non ci sono nazioni, non ci sono popoli esclusi dal Vangelo, assolutamente. Anzi, c'è il comando preciso di Gesù, le ultime parole che ha pronunciato su questa terra, di andare e di istruire e di battezzare. Quindi una catechesi a tappeto di tutta la terra. Non solo catechesi, ma anche battesimo. Già la catechesi, ai giorni nostri, viene scambiata per proselitismo e proselitismo in senso negativo, come se si volesse obbligare le persone. Non è questione di obbligare. È questione proprio che il cristiano, se ama il Signore e se apprezza ciò che ha ricevuto da Gesù, sente ovviamente il dovere di far sì che anche le altre anime su questa terra possano ricevere altrettanto. È una cosa che viene di conseguenza. Il desiderare che tutto il mondo venga salvato dal sangue di Cristo non è un male, non è un peccato questo. Ciò che viene fatto passare per male dalla falsa chiesa in realtà sono i voleri, i desideri di nostro Signore Gesù Cristo espressi poco prima di salire al Padre. Quindi tutte le nazioni devono essere interessate da questo insegnamento e devono essere battezzate, cioè devono essere immerse nella Santissima Trinità, perché nel battesimo noi diventiamo figli adottivi di Dio Padre, fratelli adottivi di Gesù Cristo e riceviamo nella nostra anima lo spirito del Padre e del Figlio. È un'immersione completa della nostra persona nella Santissima Trinità. È una cosa meravigliosa, stupenda. Non è solo catechesi, ma è proprio di fatto diventiamo noi il corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo ed entriamo a pieno titolo nella Santissima Trinità. Meraviglioso questo. Il cristiano e soprattutto l'Apostolo e il Pastore non si possono sottrarre da questo comandamento di Gesù. La Chiesa non andrà allo sbaraglio ad annunciare queste cose, a battezzare tutte le genti. Non andrà allo sbaraglio. E neanche si appoggerà ai poteri e alle strategie umane ai mezzi di questo mondo, ma ai poteri che Gesù ha concesso agli Apostoli, poteri che vengono dall'alto, poteri che vengono da Dio, sono poteri divini questi. Su queste cose la Chiesa si fonda e con coraggio, senza mancare mai di fede, fidandosi delle parole del Signore, porta avanti l'evangelizzazione della terra. Ecco, queste parole che Gesù ha pronunciato vengono subito dopo il racconto del grande inganno. San Matteo ci racconta che le guardie che vigilavano il sepolcro durante il sabato e la notte della Ressurrezione, quelle guardie vennero travolte da una serie di avvenimenti. Il terremoto, la pietra che si è spostata, perciò ha liberato l'accesso al sepolcro, un fulgore enorme di luce che li ha investiti, loro sono caduti a terra e quando si sono rialzati, entrando nel sepolcro, non hanno più visto il cadavere. Perciò sono corse dalle autorità, dalle loro superiori, a riferire il fatto. Ma quei superiori cosa hanno fatto? Hanno dato loro del denaro e hanno comandato di non parlare di queste cose, ma di dire che i discepoli di Gesù sono venuti e hanno portato via il cadavere. Questa diceria, dice San Matteo, si è diffusa fino ai nostri giorni. Vedete, mentre il mondo di allora e il mondo anche di oggi, il mondo di sempre, si muove e programma di far tacere la predicazione della Chiesa e di accusarla di menzogna con il potere del denaro, col potere delle amicizie, mentre il mondo si organizza per fare questo, anche Gesù manda avanti l'opera di evangelizzazione della Chiesa. Da una parte la menzogna, l'opera della menzogna, dall'altra parte la verità, l'opera della verità, che è la predicazione apostolica. Due cose che vanno in parallelo, si scontrano tra di loro, ma mentre la menzogna è destinata alla distruzione, e la verità avrà sempre la meglio. Alla fine trionferà. Quindi, ecco, andiamo avanti e leggiamo anche gli ultimi versetti, insegnando loro ad osservare. Ecco, la predicazione degli apostoli è un insegnamento, non può essere un esercizio di retorica a fine se stesso. Perciò certe predicazioni altisonanti non hanno ragione di essere. Il pastore deve insegnare, deve aiutare a capire tutti i livelli e gli strati della popolazione, anche i più semplici. La predicazione deve essere anche semplice. Ma su che cosa deve essere la predicazione? Ad insegnare tutto ciò che io vi ho comandato. La predicazione ha come argomento ciò che Gesù ci ha comandato, non altro. Non dobbiamo perderci in discorsi sociali, non dobbiamo perderti in discorsi ecologici che non hanno niente a che fare, ma dobbiamo insegnare le cose che Gesù ci ha comandato e dobbiamo insegnare ad osservarle, a metterle in pratica. Quindi è esattamente il contrario di quello che la falsa chiesa sta insegnando. Ormai sono estremamente distanti da queste parole, dalle ultime parole di Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Con chi è Gesù? Gesù è con la sua chiesa. E questo è molto chiaro. Gesù non è con gli altri come è con la sua chiesa. Gesù è presente nella sua chiesa. Altrove aveva detto laddove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Fino alla fine del mondo. Gesù non lascerà la sua presenza nella sua chiesa. Purtroppo oggi molti si ingannano e scambiano la chiesa di Gesù per quella che ormai è la chiesa di Satana, la chiesa del mondo. La chiesa della menzogna, la chiesa che si regge sulle amicizie, sulle lobbies, sulla circolazione del denaro, sulla corruzione. Ormai scambiano la chiesa di Gesù con quell'altra chiesa e vanno ancora a quelle messe dove lo Spirito Santo non scende più, dove Gesù non è più presente perché è presente con la vera chiesa. E come facciamo a distinguere la vera dalla falsa chiesa? Dal vicario di Cristo. Gesù ha detto tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, non su altre pietre. Quindi non sarà su Bergoglio che Gesù edifica la chiesa, ma sarà su Benedetto XVI. Il nostro Papa in esilio, se vogliamo, noi ormai siamo una chiesa invisibile ma vera, reale, presente, il nostro centro di unità visibile è Benedetto XVI, prigioniero, questa è la vera chiesa, è sulla vera chiesa che celebra in unione a Benedetto XVI e non è solo un modo di dire perché non esistono i modi di dire nella liturgia, e ogni parola corrisponde ad una verità e sulla vera chiesa scende allo Spirito Santo. Certo, non siamo santi, nessuno di noi, né io, né voi siete santi, siamo in cammino, ma dobbiamo centrare l'obiettivo almeno perché se noi continuiamo a riferirci a quella situazione è tempo sprecato, non riceviamo lo Spirito Santo. hanno celebrato la Pentecoste ma non hanno ricevuto lo Spirito Santo, carissimi fratelli, quindi abbandoniamo questo bellissimo albero ormai tagliato alle radici che non riceve più linfa, non riceve più linfa vitale, c'è ancora qualche ramo fresco più per la rugiada della notte che non per la linfa che passa, perché non passa più e restiamo con la vera chiesa, sielo dato Gesù Cristo, in nomine Patris et Fili e Spiritus Santi. Amen.